Buongiorno a tutti, apriamo 11 bustine di Adrenalin XL. Vediamo cosa ci danno queste 11 bustine. Andiamo con la prima bustina. Vi ricordo che con i nomi stranieri ancora non ci siamo. Allora, Marco Baroni è un mister plus del Verona, Ramadani è una carta plus del Lecce, Vignato è una carta diamante del Monza, Beuchemia è una carta del Bologna ed è una Energy, Kronik è una carta del Milan, Berardi è una carta del Sassuolo. Andiamo con la seconda bustina. Andiamo con Oliver è una carta plus della Fiorentina, Morten è una carta plus del Genoa, Di Marco è una carta stella dell'Inter, Giordi è una carta del Verona, Nicolò Casale della Lazio, Gerard dell'Udinese calcio. Andiamo con la terza bustina, abbiamo Elbilal è una carta plus dell'Atalanta, Marcus è una carta plus del Sassuolo, abbiamo la Padula è una master class del Cagliari, lo Scudetto della Roma, Marco Silvestri dell'Udinese calcio, e Joan è una carta del Lecce. Quarta bustina, Maurizio Sarri è un mister plus della Lazio, Andrea Cambiasso è una mister class, una carta plus della Juventus, scusate, Milaikovic è Ranieri, è una carta blindato plus della Fiorentina, Naitan è un giocatore della Cagliari, Olivier Giroud è un giocatore del Milan, Lorenzo Lucca dell'Udinese calcio. Quinta bustina, Renato Sanchez è una carta plus della Roma, Claudio Ranieri è un mister plus del Cagliari, Berardi è una carta stella del Sassuolo, Ian è un giocatore del Torino, Davide Calabria del Milan, Nico González è un giocatore della Fiorentina. Sesta bustina, Eric è una mister, una plus della Salernitana, Alberto Gilardino è un mister plus del Genova, Ruggeri è una carta diamante dell'Atalanta, Ruggeri è un giocatore del Lecce, Soufien del Frosinone Calcio e Deni Mota, un giocatore del Monza.